Presso l'Associazione Comunale con sede in Via Ariosto, 2 bar via a Mantova si organizzano una serie di corsi amatoriali. Iscrizioni aperte a tutti i cittadini. Ogni corso è mirato a fornire un contributo formativo e personale. I corsi si svolgono in presenza e a numero chiuso, permettendo agli iscritti di essere seguiti con attenzione. Molte le materie e i temi trattati. Le lezioni si svolgono nell'arco diurno e serale, con cadenza settimanale oppure bisettimanale, in modo da rispondere alle varie esigenze degli utenti. La sede dei corsi è in prevalenza presso la sede dell'Associazione. Per informazioni rivolgersi al contatto telefonico fisso 0376 323 531. Oppure al cellulare 335 60 68 289. Sito internet www.associazionecomunali.it www.associazionecomunali.it www.associazionecomunali.it